Ciao amici di Gorizia TV, sono all'inaugurazione, Axix Danza, inaugurazione col sindaco Rodolfo Ziberna, 9-9-2023. Veramente tantissima gente in questa scuola bellissima di danza, saluto la grande Carlotta e tutti gli insegnanti che sono lì. Adesso andiamo all'interno, questa è in via Garzaroli, adesso andiamo all'interno e qua c'era, io pensavo che dovevano appena entrare, invece c'era già l'inaugurazione e tutto, e io vi lascio come che è, perché è veramente un pienone strepitoso, poi c'è stato anche un vero fresco. Le ho già sentite parlare qua, le ho già sentite parlare qua, le ho già sentite parlare, con cui abbiamo già collaborato. Certo, abbiamo fatto il piano. Il quale Maestro Grandi, con la sorella si doveva fare una bella discussione di musica, purtroppo la sorella è impegnata in un concorso internazionale. E poi il Maestro Grandi è anche il titolato della stessa città. Allora dici quello lì, va pure la riga, va pure la riga. Quando apriamo questo polfo mistico? Questo polfo mistico? Sì, togli i 50 posti. Sì, la bocca dell'orchestra, se non altro per il classico. Occhio che già noi adesso abbiamo sempre, in gran parte, anche con la prosa, il soldato. Ormai 80% di spettacoli è il soldato. Noi abbiamo poco più di 700 posti, se non è più di 50-60. Significa che non è più economico realizzare qualcosa. Se vai a San Giovanni di Udi ne hanno 1.200 posti, 1.300 posti, capisci che a questo punto a parità di costo hai meno entrate. Già oggi noi la stagione dei Verdi costa complessivamente 600.000 euro. E io, allo sindaco precedente, grande amico Ettore Romoli, avevo fatto il primo anno di Assessore della Cultura con lui, infatti Udi, ti prego, tagliami le spese del Verdi. Non riesco più a starci dietro. Però no, ma se tu parli con una persona che non ha il teatro, ti dirà che il teatro non serve. Con uno che non gioca a calcio ti dirà che butti via i soldi per l'impianto di calcio perché il padre suo o lei o lui giocava a calcio nel campetto o sulla strada. Signori, il mondo è cambiato? Ah, cerca Roby. Sì. Ma è in ritardo. Guardi, infatti tutti hanno detto, Roby è in ritardo, cosa facciamo? Lo aspettiamo? Abbiamo già finito, sai? No. Cercavo il posto. Perciò di riuscire a competere per tutti è impossibile, anche perché per tutte le sue circostanze. Abbiamo dovuto destinare le risorse altrove. Sbagliato, giusto che sia. Noi abbiamo investito su una cosa che altri comuni, per legittima scelta, non investo, noi saremo a breve in alcune capoluogo con le scuole, dal punto di vista sismico, le più sicure in Italia. E' una cosa che il cittadino che ogni volta che io spendo un milione e mezzo, due milioni con la scuola, ricevo sempre improperi dai genitori. Da voi, eh? No, da voi, non so chi. Perché io dico, ma guarda che fra due anni questa scuola qui sarà perfetta. Tu porti il tuo figlio, il tuo nipote in una scuola e sai che vai a riprendere qualunque cosa accadano. Sì, ma fra due anni il mio figlio è già in un'altra scuola. Sì, ma pensa agli altri bambini, persone che hanno speso, penso, qualcosa come 25 milioni di euro per le scuole. Uno dice, eh, troppo. Signori, se un bimbo si fa male, io non si muore. Se si fa male, non mi dovo perdere tutta la vita. L'altro investimento che stiamo facendo adesso, ecco perché le strade non le potevamo tappare, perché saremo il primo comune capoluogo amianto free, per quanto riguarda la rete idrica, non ha nulla a che fare con questo. 40 chilometri di, 40 chilometri di rete cambiate, 40 chilometri, perché abbiamo una media di perdita, scusa, questi sono pochi. Signori, per un comune come Dolizia, che ha un quarto di soldi di Montfalcone, non abbiamo un giro industriale, non abbiamo perso, noi abbiamo circa una disponibilità risicatissima di quattrini e tanto. Mi chiedi anche altri soldi? Ma no, va, comunque... Ogni domanda ti rispondo per un quarto d'ora. Colpa sua, eh! Mi lascia dire, sì. Ma scherzo, vai! E poi, dunque, c'è la Manuela Marussi, amica, con cui abbiamo anche parlato, titolare animale free voice, di coro sifonico, coro anche liturgico, che arriva più tardi, no? Poi c'è Andrea Binetti, il... Tenore. Il... Tenore. Tenore. L'anima dell'operezza Trieste, no? Quindi ho collaborato con Carlotta, avete il mio, assolutamente i miei auguri, il mio saluto. Se c'è possibilità di... di far questo insieme, possiamo farlo. Il Culturni Center Loise Brattus, per la parte dell'Obena, insomma, insomma, anche loro, a Gorizia, con la Direttrice Sgaves e la Scuola di Musica, no? Oltre al... come posso dire... al centro culturale. C'è l'Università della Terza Età, anche, che ha dato i suoi saluti. Avete visto che quando ha parlato l'Università della Terza Età ha guardato bene, no? Con la Presidente di lato volente. Sono qui, sono qui, sono qui. Eccola là! Madame, dalla prossimo... Ma... Madame il prossimo... Ecco, avrai... Ehm... 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 Importantissima, più del tutto, secondo me, la... E' tutto quello che abbiamo fatto, abbiamo arrivato a pavimenti, abbiamo messo un sacco di cose nuove che vedrete, per chi la conosceva già la sede, per chi non la conosce. Spero che... Che vi piaggia ugualmente. Quindi facciamo un giretto, intanto qua le stiamo al buffet, facciamo un giro, allargatevi. Bene, adesso andiamo a intervistare il grande sindaco, grazie per il saluto di Roby, vai Carlotta al sindaco. Vai, 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 giusto, aspetta, ecco qua, una parolina veloce, aspetta, no, una parolina veloce, veloce. Due eccellenze che fanno dell'eccellenza a Gorizia e il loro obiettivo qual è? Quello di fare in modo che tante persone diventino un'eccellenza, ma non un'eccellenza per niente, eccellenza per se stessa, è importante stare bene con se stessa. Grazie mille, buon lavoro. Mandami la foto. Sì. Ma guardate che meraviglia, ragazzi. Eccolo qua. Siete per entrare, sapete? Sì. Guardate che pavimenti, ragazzi. Mamma mia. No, ma si becca lo stesso. Vediamo come che balli. Abbiamo la ballerina. E saluto anche il generale, guarda qua che anche lei sarà la futura ballerina. Eccola. Troluce. Qua c'è un'altra sala. Voi che siete qua, che sala è questa? Sala rossa. Per chi deve ballare qua? Per questo, un po' lento. Ah, qualsiasi? Qualsiasi? Ah, ok. Bene, allora voglio concludere che a destra è la figlia di Carlo. E chiudo qua con il rifresco. E a sinistra è la ragazza. E devo dire, una del capricorno e una dei pesci. Due bei segni potenti. Può essere.